Oggi la digital transformation non è più un'opzione, è diventata l'imperativo per ogni realtà aziendale, grande, media o piccola che sia. La trasformazione digitale delle aziende coinvolge diversi aspetti, dai processi e dai flussi informativi fino a modelli di business per cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media e dai nuovi canali di comunicazione. Ovviamente per Barco la digital transformation è un aspetto molto importante che sicuramente impatta il nuovo modo di collaborare all'interno di un'azienda, passando anche attraverso il concetto di esperienza della persona. Barco attraverso la sua tecnologia mette a disposizione proprio della digital transformation tutta una serie di soluzioni che vanno proprio in questa direzione. Oggi infatti si parla sempre di più di collaboration, uno dei mercati più in crescita in assoluto, virtual reality e simulation, tutti aspetti molto importanti della trasformazione digitale. Barco considera la digital transformation qualcosa ormai da cui non si può più prescindere e quindi ha studiato tutta una serie di soluzioni atte a soddisfare queste esigenze. Oggi la collaboration rappresenta uno degli elementi essenziali della trasformazione digitale. Infatti Barco ha cambiato il metodo di approccio e meeting con il prodotto ClickShare. Ad oggi i partecipanti ad una riunione possono arrivare all'interno del meeting room e trovare tutto connesso, senza cavi. Questo permette di entrare subito nel vivo della discussione, senza spreco di tempo e di avere una qualità del lavoro sicuramente migliore. Ovviamente con l'aumento della collaborazione ad hoc negli ambienti costruiti appositamente, è probabile che assisteremo a una corsa per identificare e sviluppare tecnologie specifiche di Huddle Room. Le tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale potranno costituire una parte importante. Barco in questo senso è leader da sempre nel mercato della videoproiezioni e prodotti visual come gli LCD che sono parte integranti di questa tecnologia. Barco ha stipulato una partnership a livello europeo con Comtec, quindi in ogni paese dove Comtec è presente abbiamo costruito una stretta collaborazione. Attraverso Comtec desideriamo approcciare con la tecnologia più partner. Insieme ci imponiamo a formare una squadra che possa essere in grado di cogliere i cambiamenti e che sviluppi i progetti che vadano incontro alle richieste dei clienti che stanno entrando nell'era digitale. E questo lo vogliamo fare nel migliore dei modi. Essere presenti al Comtec Awards significa rafforzare questo messaggio. Infatti durante l'evento premeremo partner che hanno deciso di scegliere le nostre tecnologie per approcciare le nuove tendenze di mercato nel migliore dei modi ed entrare nella nuova era digitale.